Il castello del Cataio si è salvato dalla costruzione del più grande centro commerciale del Veneto, una battaglia contro quello che molti avevano definito uno sfregio al territorio che assieme alla nostra emittenti aveva unito cittadini, amministratori locali, associazioni di categoria e del mondo della cultura. Altri fronti però si erano aperti, per esempio con il progetto che riguardava un centro commerciale all'ex seminario di Selvazzano. Dalla regione però arriva proprio per questi casi un provvedimento accolto con soddisfazione dalle associazioni di categoria. Le recenti disposizioni regionali sul contenimento del consumo di suolo rendono infatti obbligatoria una pianificazione coordinata tra più comuni per le aree da destinare all'insediamento di grandi strutture di vendita. In altre parole, quello che è già stato definito un cambio di passo che rappresenta uno spartiacque col passato, prevede che qualsiasi iniziativa dovrà per forza passare al vaglio dei comuni limitrofi, non più quindi centri commerciali sui confini che creavano problemi a chi peraltro non ne riceveva nemmeno i vantaggi costituiti da imu e oneri di urbanizzazione. La nuova norma, esultano da Confcommercio, pone tutti i sindaci della nostra regione di fronte ad una responsabilità nuova, quella di non pensare più solo al proprio ambito territoriale ma di condividere lo sviluppo con i comuni vicini.